Ciao a tutti! Oggi prepareremo il biscotto gelato al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 6 ore di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono biscotti tipo digestive, mascarpone, panna fresca per dolci messa per 45 minuti in congelatore, zucchero semolato, zucchero a velo, estratto di vaniglia, cacao amaro e per decorare granella di nocciole e gocce di cioccolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola, posizionare la farfalla sulle lame, aggiungere la panna ed azionare il bimbi senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. la panna è ben montata, trasferire in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale e senza farfalla mettere il mascarpone, lo zucchero a velo, il cacao amaro e l'estratto di vaniglia. e ad azionare il bimbi per due minuti a velocità 3. Trasferire il composto nella ciotola con la panna. amalgamare bene con la spatola. formare i biscotti mettere la crema su un biscotto livellare bene chiudere con l'altro biscotto schiacciando leggermente rifilare il bordo passare il bordo nella granella o nelle gocce di cioccolato riporre in congelatore per almeno sei ore biscotto gelato al cioccolato si conservano in congelatore avvolti nell'alluminio per alimenti grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti Grazie a tutti.